La città di Cava dei Tirreni ed in particolar modo l'intera comunità della frazione Sant'Anna è ancora turbata nel profondo per la tragica scomparsa del 47enne Michele Santoriello che ha perso la vita lunedì 14 dicembre precipitando da un'altezza di circa 6 metri mentre seguiva alcuni lavori di manutenzione su di un capannone nell'ex deposito industriale Pennitalia di Salerno. Nel pomeriggio di martedì presso la chiesa di Sant'Anna il parroco Don Alessandro Buona ha celebrato il rito funebre dell'uomo che ha lasciato la moglie e due figli adolescenti e mentre proseguono le indagini dei carabinieri del comando provinciale di Salerno per dirimere tutti i dubbi su quanto accaduto non si sono fatte attendere le reazioni dei sindacati alla tragedia. In particolare per Gigi Vicinanza, componente nazionale della CISAL Metal Meccanici l'ennesima morte sul lavoro in provincia di Salerno evidenzia che il covid ha solo anestetizzato il problema che esiste ancora. Come CISAL ha fatto sapere inoltre Vicinanza, siamo disponibili a fornire assistenza legale alla famiglia della vittima se necessario. Giuseppe Vicinanza, dirigente sindacale della Filca CISL Salerno, ha invece lanciato un monito dopo l'ennesima morte bianca. Basta morti sui luoghi di lavoro, ha affermato in una nota. Chiediamo dignità per tutti i lavoratori del nostro settore. La proposta della Filca Salerno è quella di inserire una patente a punti per salvaguardare le imprese virtuose che hanno cantieri dove non si verificano infortuni, con delle premialità con cui potranno partecipare a gare ed aggiudicarsi appalti. Sulla drammatica vicenda è intervenuto anche il segretario generale della CGL Salerno, Arturo Sessa. Siamo all'ennesimo caduto sul lavoro dal nostro punto di vista, probabilmente per carenza di misure di sicurezza. Se avessero applicato tutte le norme, compreso l'ultimo disciplinare, una morte del genere si sarebbe potuta evitare. Credo che il prefetto, ispettorato, debbano far sì che i cantieri vengano controllati a tappeto. CGL, come in altri casi, si costituirà parte civile in proseguo. Nel pomeriggio di ieri, l'Assemblea di Potere al Popolo di Cava dei Tidreni ha chiesto con una PEC inviata alla segreteria del sindaco Vincenzo Servalli la proclamazione del lutto cittadino. Crediamo che la proclamazione del lutto cittadino e dell'esposizione delle bandiere a mezz'asta dagli edifici comunali sia un gesto dovuto, ha commentato Davide Trezza, coordinatore di Potere al Popolo, un segno di solidarietà da parte della comunità cittadina nei confronti della famiglia del compianto Michele Santoriello colpita dal tragico lutto, ma anche un segno simbolico rivolto ad onorare tutti i lavoratori a cui in questa fase, a causa del Covid, stiamo chiedendo un sacrificio enorme in termini di vita umana costringendole ad esporsi al contagio. È intervenuto sulla tragedia anche il segretario cittadino cavese del Partito Comunista, Mariano Mastuccino. È chiaro che ci stringiamo davanti a questo grandissimo dolore che ha investito Cava dei Tirreni e le persone più vicine a Michele, ma non possiamo non notare come in una società che mette al primo posto il profitto, la dignità e la sicurezza delle persone che lavorano è sempre ogni giorno messa in difficoltà e quindi come Partito Comunista proveremo a tenere alta l'attenzione e a lavorare sia su Cava, sia ovunque e comunque a difesa dei lavoratori e delle lavoratrici. In attesa della convocazione del Consiglio Comunale monotematico, la vicenda relativa al depotenziamento dell'ospedale Santa Maria dell'Ulmo approde in Parlamento. Infatti, nei giorni scorsi, su sollecitazione del consigliere comunale Pasquale Senatore e del commissario cittadino Fortunato Palumbo, i parlamentari di Forza Italia, Maurizio Gasparri, Vincenzo Fasano e Domenico Desiano, hanno presentato due interrogazioni, una al Senato e una alla Camera, per sollecitare un intervento del Ministro della Salute Roberto Speranza nei confronti della regione Campania, relativamente al depotenziamento dell'ospedale cittadino all'indomani dell'accorpamento dei reparti di chirurgia e ortopedia e del trasferimento di personale sanitario dal reparto di rianimazione all'ospedale da Procida di Salerno. Nonostante la grave situazione creata si integro dall'emergenza sanitaria in Campania, una delle regioni più colpite anche a causa della gestione del UCA, si legge in una nota dei deputati azzurri, è paradossale che vengano chiusi le parti fondamentali e ne vengono depotenziati altri. Si tratta di una vera e propria follia, che penalizza interi territori rimasti privi di assistenza sanitaria in una fase così delicata. Intanto, anche il consigliere comunale di Fratelli d'Italia chiede all'amministrazione comunale di prendere una posizione sulla vicenda che riguarda l'ospedale Santa Maria dell'Ulmo. Dischetti in mare dal depuratore di Capaccio Pestum. Il GUP Vincenzo Pellegrino, all'esito dell'udienza preliminare tenutasi ieri presso il Tribunale di Salerno, ha rinviato a giudizio tutti gli otto indagati per lo scempio ambientale verificatosi nel febbraio del 2018, quando dall'impianto di Varolato fuoriuscirono oltre 130 milioni di filtri carrier, moltissimi dei quali rinvenuti in mare e sulle coste salernitane e del Mediterraneo. Accolte di fatto le richieste del PM Marinella Guglielmotti della Procura di Salerno. Finiscono dunque a processo, con l'accusa di disastro ambientale e inquinamento doloso in concorso, attraverso violazioni plurime del testo unico per l'edilizia, i funzionari comunali Carmine Greco e Gianvito Bello, Gerardo De Rosa e Angelo Corradino, ex amministratore unico e direttore tecnico della Pistom, il direttore dei lavori Antonino Fiore e il collaudatore statico Giuseppe Iodice, oltre a Guido Turconi ed Elio Bardone, legale rappresentante e direttore della Veolia Water Technologies SPA, aggiudicataria dei lavori di adeguamento e ripristino del depuratore. Stralciata la sola posizione di Corradino, che ha scelto il rito alberiato, per tutti gli altri invece si procederà col rito ordinario e si andrà a dibattimento, con la prima udienza che si terrà davanti alla seconda sezione penale il 15 febbraio del prossimo anno. Rispetto alle 12 richieste di Costituzione di parte civile, il GUP ne ha accettate solo 5. Si tratta delle associazioni nazionali Lega Ambiente, WWF e Codacons, oltre al Comune di Formia e al Comune di Latina, che hanno denunciato gravi danni subiti dal rinvenimento sui propri litorali di migliaia di dischetti provenienti dal depuratore capaccese. Assente in aula il Comune di Capaccio Pestum, che dunque al momento non si è costituito come parte offesa nel procedimento penale. L'Associazione Dottor Michele Siani scende in campo in questo periodo di festività natalizie con l'iniziativa benefica, il regalo sospeso, che vedrà il coinvolgimento delle attività commerciali di Vietri sul mare al fine di raccogliere prodotti e beni destinati alla casa di accoglienza diocesana Nazareth di Cava dei Tirreni. Da ieri, 15 dicembre, fino al 10 gennaio 2021, nei negozi aderenti che sporranno l'apposita locandina, chiunque vorrà potrà acquistare un prodotto alimentare e non da inserire nel sacco natalizio presente presso l'esercizio commerciale. Sì, quest'anno l'Associazione Dottor Michele Siani lancia l'iniziativa il regalo sospeso, che vedrà il coinvolgimento delle attività commerciali di Vietri. È diretta la raccolta di prodotti e beni destinati alla casa di accoglienza diocesana Nazareth di Cava dei Tirreni. La raccolta sarà fatta dal 15 dicembre al 10 gennaio, nei negozi aderenti che sperranno questa apposita locandina. Chiunque lo vorrà potrà acquistare un prodotto e inserire nel sacco natalizio presente presso qualsiasi esercizio commerciale. Poi sarà l'Associazione a provvedere a consegnare direttamente agli ospiti della struttura. La raccolta sarà fatta dal 15 dicembre al 10 gennaio. Noi abbiamo coinvolto i negozi alimentari, i negozi di casalinghe e cinici personale della casa e farmacia e cartoleria. Abbiamo scelto la comunità di Nazareth di Cava dei Tirreni perché fa parte della nostra stessa diocesi. È inserita in una realtà sociale e culturale tanto sia alla nostra. L'iniziativa ben si inserisce nella finalità dell'Associazione Dott. Michele Sian che presenta tra i propri obiettivi anche quelli sociale e di solidarietà. Sul campo di Teramo la Cavese dovrà affrontare una compagine più forte, proprio quella abruzzese che non a caso in classifica è terza con 26 punti, ma le prestazioni offerte dalla squadra metelliana fuori casa l'autorizzano a sperare in un risultato utile o almeno a giocare una partita più che dignitosa al cospetto degli undici allenati da Massimo Paci. I bianco-blu hanno riportato più punti giocando fuori casa rispetto a quanto hanno raccolto a Lamberti. Non c'è più tanta differenza tra una gara interna e una esterna ai tempi del Covid, data la pressoché totale impossibilità di avere il pubblico negli stadi, ma la differenza può risiedere nelle condizioni del terreno e la Cavese ha dimostrato in campi eccellenti di saper produrre gioco e sviluppare idee. Difatti è riuscita a giocare contro formazioni del calibro di Potenza, Bisceglie, Catanzaro e Juve Stabia, ma anche a Lentini col Catania, a dispetto di un terreno disastrato, la compagini De Maiuri ha esibito una condizione atletica più fresca rispetto a quella degli avversari, mostrando di essere anche sul pezzo a livello di concentrazione e di motivazioni varie. Peraltro i bianco-blu anche nelle partite interne che hanno disputato con Casertana e Francavilla hanno trovato un terreno di gioco in condizioni migliori. Fuori casa la Cavese ha anche perso, ma nelle partite in cui non sono arrivati i punti aveva comunque avuto inizi di partita incoraggianti come a Castellammare, dove però i bianco-blu sono rimasti in inferiorità numerica molto presto, con tutto ciò che ne conseguiva. La Cavese può dunque sperare di riuscire a combinare qualcosa sul piano della prestazione contro il Teramo. C'è tuttavia anche da tenere conto della bravura della squadra avversaria, che in casa non ha mai perso e passando attraverso la qualità di Bombaggi e Mungo e il tempo di inserimento di Ilari può essere insidiosa e pericolosa. Il primo allenamento settimanale la Cavese di Vincenzo Maiuri lo ha effettuato ieri, è stata una seduta piuttosto lunga e anche oggi ci sarà un solo allenamento pomeridiano ma intenso. Allenamento a parte per Germinale e allenamento a parte per Matino, i due non sono a rischio per sabato. Tra gli Aquilotti è pronto a rientrare per la gara di sabato pomeriggio il centrocampista Marco Cucurullo. Dovesse tornare a giocare dal primo minuto, gli lascerebbe il posto Antonio Matera. La certezza dovrebbe essere garantita dal modulo 4-3-3. Maiuri in queste settimane ha lavorato soprattutto sulla compattezza di squadra, chiedendo anche agli attaccanti di aiutare in più la fase di non possesso, in particolare il centrocampo. Quindi si è vista una squadra meno spregiudicata ma più equilibrata. Poi il risultato a Teramo potrà anche essere casuale, ma la prestazione, quella, potrà non essere casuale. A Filippo Inzaghi, allenatore del Benevento, e a Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, è stato ufficialmente consegnato ieri il premio Pietro Santin, allo stadio Santa Colomba di Benevento. Proprio ieri sera, nell'impianto calcistico Sannita intitolato a Ciro Vigorito, si è creata l'occasione ideale per consegnare ai due fratelli i riconoscimenti. Presente per l'evento, il presidente del comitato organizzatore del torneo internazionale di calcio giovanile Città di Cavaretti Reni, Giovanni Bisogno, il coordinatore del torneo Nunzio Siani e inoltre la moglie, il figlio e il nipote di Santin, il celebre allenatore della Cavese dei tempi della B. Il premio Santin è stato consegnato anche a Oreste Vigorito, massimo dirigente del Benevento calcio. Per la cronaca, la partita Benevento-Lazio è terminata sull'1-1. Filippo Inzaghi, dopo aver vinto il campionato di Serie B 2019-2020 con la compagine beneventana, la sta guidando a un campionato tranquillo. Dall'altra parte, Simone Inzaghi, alla sua ennesima stagione consecutiva con la Lazio, lotta per una fermazione dei bianco-azzurri anche in ambito internazionale e tutti e due gli allenatori con i rispettivi obiettivi hanno saputo onorare i valori che erano calciati. a Santin, quindi grande forza di umiltà, disponibilità verso il prossimo, lealtà, altruismo e anche sacrificio, vista quella che fu la vicenda personale vissuta dallo stesso Santin, nato in Croazia nel 1933 e poi scampato con la sua famiglia alla pulizia etnica imposta nell'ex Jugoslavia dal maresciallo Tito. Quindi premio ai due fratelli Inzaghi e l'anno scorso lo avevano vinto Claudio Ranieri ed Emilio De Leo. Grazie. 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 Grazie.